Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo a Bari, nel quartiere Madonnella, in via Matteotti, nelle immediate vicinanze del centro cittadino e a pochissimi passi dal lungomare Nazario Sauro, lungomare che rappresenta una delle più note passeggiate della città per poter ammirare il panorama. Percorre la città vecchia sino alle spiagge di pane pomodoro. L'immobile si trova al secondo di un palazzo di sette piani. Barcando la porta d'ingresso ci accoglie un doppio salone illuminato da balcone con affaccio esterno. Dal corridoio accediamo alla cucina abitabile con balcone interno verandato, con ripostiglio e bagno di servizio. Ancora un bagno padronale completo di sanitari ed infine due comode camere da letto, una con affaccio esterno e l'altra con affaccio interno. Non perdete questa fantastica occasione, contattaci subito per prenotare il vostro appuntamento. Ciao, alla prossima! Ciao!